Ciao da Valeria, Edgar Wright e gli indizi su Ant-Man dopo il video. Ce l'hai e come Ernesto. Cos'è sto pacchettino? Non mi ero dimenticato, carita. Me l'ero anche segnato sulla gemma. Buon mattino. Colorate i capelli. È una settimana che li ho colorati. Mi stai dicendo che devo lasciare lo studio? Pensa che gli altri volevano darti questa notizia una settimana fa. E lì mi sono proprio imputtato. No, aspettiamo il suo compleanno. Così la sera esce e si distrae. Una premura mia. Che vuole, soffolina. Baffu. Mi ha ficciato addosso. Che schifo. La crisi. Pensiamo alla sospensione. Ma ad odiziale, di che cosa stiamo parlando? Parliamo di gesti di questo tipo. Qui l'unica sospensione che imballo sono le nostre grosse donazioni all'istituto delle sue aree abbacchiate. Addolorate. Quello che è. Chi sostiene che il paese in ginocchio dico, ora non resta che ce lo succhi. Così gli dico. Alberto, controllo. Lo facevo più magro. Lo facevo più caldo. A Mazzesi mi ha detto, quando è che vorresti a Berlino a accontrare i nuovi capi? Domani, gli ho detto. Vengo domani. Scheisse. Che zum Teufel blöder Italiener. Io in tedesco so solo dire scheisse. Merda. Non dirlo. Ui, scusi. Ma che sta facendo? Cappelletti, qui stavo guardando la mia ragazza. Ti rendi conto? Magari. Spero che non sia stato un problema per te partire così in fredditoria. The Great Rush, actually. Volevo darti alcune imbeccate. Some tips. Questo non si guarda. Some tips. Scusa, anche un po' il linguaggio schietto. Frankly speaking. Adesso hai rotto i coglioni, va bene? Cosa? Cocaine. No, sono allergico io. A cocaine? No, alla polvere in generale. Il regista Edgar Wright ha pubblicato sul suo blog un'immagine legata ad Ant-Man dal titolo Compiti a Casa. Questo indizio potrebbe rivelare l'identità segreta del protagonista nel prossimo adattamento cinematografico. In questa foto si vede Scott Lang che ruba a Hank Pym l'attrezzatura originale di Ant-Man e la utilizza per commettere dei crimini. Il sospetto è che il protagonista del film possa non essere Hank Pym, quanto appunto Lang. Boh, staremo a vedere. La Marvel intanto ha confermato che Paul Rudd sarà il protagonista del film. Per altri dettagli su questo progetto non ci resta che aspettare qualche nuovo indizio. L'uscita di Ant-Man è prevista per il 31 luglio 2015, tre mesi dopo l'uscita di Avengers Age of Ultron, che chiuderà la fase 2 dell'universo cinematografico Marvel. Per oggi è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video. Nel frattempo, se non l'avete ancora fatto, vi iscrivete al nostro canale YouTube, così resterete sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!